Siamo qui ad Alatri, nei pressi del luogo in cui è stato ucciso Thomas Brick nella nottata di lunedì, reddato con un colpo di pistola da due killer, due sigari giunti a bordo di uno scooter. Oggi abbiamo incontrato gli amici di Thomas, i ragazzi che con lui uscivano tutte le sere, anche lì su quella scalinata sulla quale si è consumato il delitto. Il clima è teso, però vogliamo far parlare loro. Allora, ho letto un sacco di notizie che parlano di droga, invece non è vero niente. Quelli sono stati mandati per uccidere un ragazzo, un altro amico mio, lo volevano ammazzare, ma non per questioni di droga, perché questi sono mesi, quasi anni, che ogni giorno, ogni sabato, minacciavano senza senso, senza nessun motivo persone. Mettevano dentro la macchina le persone, chiamavano gente di Frosinone, Rom, perché erano Rom, per fare, per intimidirci e tutto. Hanno trovato i ragazzi nordafricani che non hanno nulla da perdere, diciamo non nulla da perdere, però non hanno né genitori né niente e loro hanno dato guaio, si sono presi le botte e il giorno dopo questi nordafricani giustamente non si sono stati zitti. E loro cosa hanno fatto? Hanno ucciso un ragazzo senza motivo. Anche se non era lui, era un altro, era la stessa cosa, la stessa cosa. Devono solo vergognarsi e non si devono più far vedere qui, mai più. Non li voglio più vedere qui, mai, mai, mai più. Thomas era sempre con voi ragazzi, no? Queste cose che sono emerse riguardo i suoi coinvolgimenti nelle risse, riguardo i suoi coinvolgimenti nello spaccio, voi cosa dite riguardo questo? Non è un pezzo di male, non ha mai tolto un capello a nessuno, non ha mai tolto un capello a nessuno. Era il primo che se vedeva due litigali divideva, perché bisognava sempre essere amici per lui, sempre col sorriso in bocca, amici, anzi fratelli, lui diceva più che altro. Perché non c'ha mai... Allora, appena io e un altro amico di Thomas, siamo regati all'ospedale, è stata mandata una persona per controllare se il ragazzo che devono uccidere era morto. E' stata mandata una persona da loro, per verificare se quella persona che loro volevano uccidere era morto. E Simone io e quell'altro amico mio che stava con me, perché noi eravamo andati all'ospedale per controllare la salute di Thomas, è arrivato questa persona a controllare la situazione, a controllare la situazione. Questa persona non c'entrava nulla con Thomas, con niente. e proprio si sono inculati con le loro mani. Ci hanno levato una persona sempre pronta a fatte cacciare un sorriso nel momento in cui tu stavi un attimo giù, lui stava sempre pronto, trovava sempre il modo. Pure quando non c'è stava, c'è stava sempre il modo. Lui ti lasciava modo pure a distanza, le fatte fare un sorriso. nel momento in cui ti mancava qualcosa lui stava là, c'è stava sempre. Questi pezzi di merda ci hanno levato un pezzo che non c'è. Non lo meritano, non lo meritano. Non lo meritano, non lo meritano. Non lo sbaglio, non lo sbaglio. Lui stava un po' sbagliato. Quindi voi siete convinti che comunque si sia trattato di uno scambio di persona che il bersaglio non può? È stato sicuro uno scambio di persona. Volevano uccidere un altro ragazzo della stessa mia nazionalità, a Magrebbino. Ma qua non è uno scontro tra bande. Qui è solo che loro ogni volta devono, volevano minacciare, volevano la supremazia, ma non è fatto di droga. È proprio, volevano che loro vengono rispettati da tutti. Trattati da, non lo so, forse hanno visto troppi film, io non lo so, ma il problema non sono i ragazzi. Perché è una famiglia. È una famiglia che ha fatto questo. È una famiglia. Io mi vergogno del padre. Non so, mi sorprende del padre che ha fatto tutto, cioè, che non ha preso i suoi figli e gli ha dato due schiaffi in faccia. Mi meraviglio, non so. E adesso che fanno? Se ne vanno, scappano. Io spero solo il peggio male possibile per loro. Tutto, tutto. Lei da giustizia e basta. Non c'è altro da dire. Lei da giustizia. Lei da giustizia. Per Thomas, per quello che hanno fatto a tutti quanti. Ci hanno levato un pezzo a tutti quanti. A una città hanno levato un pezzo. Quei due ragazzini che ci stavano insieme. 13 e 14 anni. Due bambini. Due bambini. Ragazzi di 18 anni. Appena fatto di 18 anni. Il bambino a me mi ha raccontato il proiettile, il secondo proiettile ci è passato qua. Però vicino alla tempia, c'è passato. dal bambino. Un bambino di 13 anni nato nel 2008. Come? Come? Quei ragazzini che hanno iniziato a correre a chiamaiuto. Come? Come hai fatto? Il problema è che sappiamo che qui in Italia non c'è giustizia. Il problema è questo. Il problema è che non c'è giustizia. Perché? Perché le leggi non tutelano le brave persone, non tutelano le persone, i cittadini onesti che fanno, proteggono solo i criminali. Adesso io non voglio creare odio, non voglio creare niente che riposi in pace, ma o lo Stato si muova o si muove o veramente ci pensiamo noi. Cioè non è... Bravo. Quindi giustizia e non vendetta. Giustizia e non vendetta, ragazzi.